bravo pillo bravissimo pillo andrea pillo bello e dai e andiamo a perdere con l'inter andiamo a perdere che bello che bello che bello 2 a 0 con l'inter 2 a 0 con l'inter ragazzi miei 2 a 0 con l'inter ci hanno su classati ci hanno umiliati ci hanno distrutti in 90 minuti ci hanno palleggiato in faccia per 95 minuti e hanno fatto solo due gol quando l'inter ieri sera poteva fare anche sette gol birra ma cosa ti è saltato in mente ieri sera cosa ti è saltato in mente non si possono perdere queste partite la roma ti ha fatto anche un bel regalo lazio a roma 3 a 0 per la lazio la roma è sempre nella stessa posizione atalanta a genoa che si è giocata ieri alle ore 18 e terminata alle 19 e mezza se mi ricordo bene finita sullo 0 a 0 alto regalo questo regalo non l'hai sfruttato questa sera ieri sera potevi vincere con l'inter potevi vincere vabbè a parte il gol annullato di onodo non me ne frega niente di niente di niente perché dopo quel gol annullato di onodo ho detto va bene iniziamo a spaventare l'inter e poi dopo i gol di attuo vidal che è l'ex della partita l'ex ci ha puggato in lei l'ex quel vidal che fino in mano si stava facendo neanche vedere la sera segnato incoppitare su un calcio di rigore con la fiorentina e ha meritato il gol questa sera con la juventus con la sua grande squadra perché veramente ha fatto ieri una grandissima partita da dieci e l'ode da dieci e l'ode invece noi che facciamo schifo facciamo schifo non siamo neanche nel secondo tempo ma neanche nel primo non siamo riusciti a oltrepassare la metà campo nera azzurra non ci siamo riusciti non ci siamo riusciti perché noi facciamo schifo noi facciamo schifo sul gioco ragazzi voi non lo potete capire i tifosi dicono vabbè una partita prestano ci facciamo ci facciamo nell'altra invece lo sportivo dice io e smerita di perdere adesso che la juventus adesso non mi codin che posso vedere stare al quinto sesto posto quando la roma e l'atalanta potevano dare tranquillamente in posto a juventus questa seconda partita la seconda sconfitta in campionato invece l'inter gioca perché i giocatori forti giocatori veloci c'è sa come deve giocare primo tempo inesistenti primo tempo proprio zero ti vabbè qua a parte quel tiro di rabbio e poi il gol annullato di un altro non me ne frega niente perché dopo quello splendido gol di vidal l'inter ha giocato da quel minuto fino al 95esimo e quello che la juventus questa cosa non la fa mai non la fa mai perché la juventus ragazzi mi fa solo schifo punto e basso una scuota come la juventus apposta di attaccare di sapere con una partita molto importante questa cosa non la fa non la fa lazio roma 3 a 0 per la lazio atalanta genoa 0 a 0 quando ieri dovrei approfittarne ieri dovrei dovrei approfittarne mai ma dico io come fai come fai a vincere tra uno con il milan è giocato è giocato molto bene con il milan con i sassuoli vinto 3 a 1 è giocato malissimo 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 a parte juve udinese ma poi inter juventus 2 a 0 per l'inter quando l'inter vabbè me vidal super barella ottimo parella si è fatto veramente sentire poi vabbè la difesa su raddoppio è stato un gol inguardabile il 2 a 0 dell'inter per juventus è stato un gol inguardabile perché la difesa è sempre in avanti non è mai indietro difendere sempre in avanti sempre in avanti mentre le altre squadre neanche il cotone fa sta cosa neanche il cotone in cotone questi palloni te li riesce a difendere si fanno i complimenti al cotone capito 4 1 con il benevento mentre noi abbiamo peggiato 1 a 1 ma questa non è la juventus e poi il pillo si è permesso prima del post partita di dire e prima di inter juventus questa partita tanto non è importante e quindi non è importante te la vai a perdere e te la vai a perdere a perdere sai cosa significa perdere non avere tre punti rimanere a zero punti sei punti cioè tre punti veramente fondamentali anche un non si è riuscita neanche a fare un pareggio neanche un gol l'inter non so come è riuscita a fare questi due gol perché l'inter ha fatto solo due gol ma poter poter fanno gli altri e poter fare altri gol altri poter essere un punteggio più ampio del 2 a 0 più ampio dell'inter e si fanno i complimenti ad antonio conte che ci ha messo e ce l'ha messi ce l'ha messi ha messo la grinta ha fatto capire ragazzi questa è la juventus io conosco la juventus per con l'ho allenata applicate questo gioco che ho io e facciamoli vedere noi chi siamo e i giocatori l'hanno dimostrato e hanno fatto bene rispetto a quelli della juventus che pillo nel primo tempo può perdere anche 20 a 0 ragazzi fate quello fate quell'altro e così è fatto pillo pillo non è uno che ulla invece antonio conte antonio conte ti spacca le orecchie ti spacca le orecchie ti spacca le orecchie 2 a 0 con l'inter e ci sta bene e ci sta bene perché l'inter è una grande squadra a 40 punti e in primo in campionato vedremo oggi cosa fa milan caieri si fanno i complimenti sia all'inter sia milano ma soprattutto all'inter l'inter secondo me poi non so per voi secondo il mio parere ha più grinta del milan anche se la prima partita inter milan è andata a finire 2 a 1 per il milan l'inter ha dei giocatori molto forti molto veloci e sanno come devono giocare lo sanno invece a juventus nella squadra dove li vedi questi giocatori giovani dove li vedi rabbio rabbio che ha 25 quanti non so quanti anni a quel cristiano non so quanti anni a quel cristiano rabbio neanche a foggia può giocare rabbio neanche a foggia neanche in serie di ma perché non ti ritiro perché non vai di nuovo al paris angel man chi ti ha comprato chi ti ha acquistato a te un acquisto sbagliato il problema è al cento campo quattro anni sempre con sto problema centro campo sempre sempre questo video non lo dovevo fare oggi lo dovevo fare ieri sera e sicuramente qualcosa spaccavo è incredibile ragazzi incredibile questa juventus non fa niente non fa niente è ridicolo inter juventus l'inter che massacra juventus facendo 18 19 ti importa rispietta la vecchia signora che ne fa solo 9 e ci sta bene perché l'inter ha più grinto della juventus pillo non non mica non dice niente pillo non dice niente va in conferenza stampa e dice sempre le stesse cose invece uno quando una persona perde deve dire abbiamo preso una partita e dobbiamo giocare meglio le prossime dobbiamo giocare dobbiamo sempre giocare sempre fare il pressing alto e queste frasi pillo in conferenza stampa non l'ha mai dette dice le partite sono importanti non una partita difficile quella re a perdere gufone gufone è incredibile che di una partita dove tu dovevi vincere una partita dove dovevi 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 approfittare 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 potesse vincere essere al terzo posto e sarei più acquato dal milan e sarei meno acquato dal milan e andrà e andrà bene e andrà bene e invece che è successo a perdiamo 2 a 0 e se questa è la seconda partita persi in campionato la seconda partita persi in campionato e allora è finita e posso dire che è finita vabbè adesso se perdiamo se non riusciamo neanche a qualificarci dalla champions ragazzi miei guarda preferisco ti fare il foggia ma se non ci qualifichiamo questa non è anche la champions league è una vergogna è una vergogna e poi la juventus agli ottavi di finale è capitata con il poto con il poto adesso vediamo vediamo che fare gli ottavi la juventus vediamo comunque prestazione vergognosa fra botta sinistra e quello così e quello colà beh ma perché non ti togli bonucci e chiellini a che servono bonucci e chiellini in difesa due giocatori vecchissimi 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 bonucci uno per più peggiore dell'altro da bonucci e chiellini preferisco più chiellini perché bonucci a me mi sta anche antipatico mi sta antipatici antipatico mamma mia mamma mia se vi dovete anche vergognare vi dovete vi dovete anche vergognate avrete anche tanti di cui miglia di di euro tanto cosa pretendete cosa pretendete di vincere la champions con tutti i miglia di carete cosa pretendete di vincere una coppa una champions league 9.000 giorni senza champions 9.000 giorni senza champions 26 anni senza champions ma ci stiamo rendendo conto ci stiamo rendendo conto dello schifo di squadra ci andiamo ci stiamo rendendo conto l'inter juventus che partita ha fatto l'inter l'inter ha dominato a ciastra ripati ecco questo detto tutto ragazzi mia mercoledì ci sarà anche juventus napoli super coppa italiana vedremo ragazzi iscrivetevi al canale lasciate like accendendo da attivate moltissime campanelline delle notifiche per non vi per non perdervi nessun nessun video one football amazon magazine spot e 60 come vi dicevo sempre da fine alla fine bianconero ragazzi miei è tutto vediamo cosa fare i mercoledì juve vediamo non va per niente bene ciao a tutti